Con Explosion avete un minuto per indovinare dieci cose appiccicose. Franco volo. Adesivo. Lecca, lecca. Polla. Esatto. Parmelata. E' brillantina. Torrone. Me la sa. Giusto. Faccio. E quando le avrete indovinate tutte ci sarà un Explosion. Suocera. Explosion, il gioco delle parole a raffica. Comincia con R. Animali domestici. Rinoceronte. Cosa? Rinocer... Certo. Salti in mente il gioco divertente che sveglia la mente. Rinoceronte.